Questo accadrà, come ho detto, per il bozzetto di Mazzini il 29 di luglio, ma già prima il 21 di luglio con la stampa in diretta al tortio della calcografia in monotipo più lunga del mondo o così almeno è stata pensata per esserlo. Ecco, decisamente sono chance che non tutte le mostre offrono e questo è un valore aggiunto di un'esposizione che non vuole solo illustrare gli orizzonti.